Penso sia sotto gli occhi di tutti il fallimento di questa missione, è chiaro che gli sbarchi continui sono ormai sotto gli occhi di tutti, ci crea una congestione di persone, si crea veramente ormai l'impotenza di gestire tutte queste cose, quindi credo che un buon ministro dell'interno debba prendersi carico di questa situazione e quindi debba dimettersi. Come commenta l'operato del ministro Alfano? Perché sta facendo il ministro? Penso che non ce ne sia accorto praticamente nessuno, lui sta facendo il capo della sua corrente, sta cercando di sopravvivere e più l'operazione Mare Nostrum è più un'operazione che al posto di buttare un salvagente in mano agli immigrati serve a lui per rimanere a galla. Ma è la politica fra l'altro osteggiata anche da paesi come la Francia che sono socialisti, quindi sono ancora più a sinistra della nostra coalizione di governo, perché sono assolutamente pieni di buone intenzioni e assolutamente negativi dal punto di vista della gestione poi concreta dei problemi che, come abbiamo sottolineato noi, ricadono tutte sulle spalle dei più deboli che subiscono questa invasione incontrollata di disperati dalle coste del Nord Africa. È un fallimento di questo governo, è un fallimento di questo ministro Alfano che invece di fermare questi sbarchi li ha agevolati perché ormai tutti sanno che basta partire e entrare in acqua, magari tra poco andiamo a prendere direttamente nelle spiagge libiche o degli altri paesi africani e c'è già il trasporto gratis in Italia. Ora noi riteniamo che considerata la congiuntura odierna che vede il 43% dei giovani disoccupati in Italia e il 12% è il valore del tasso di disoccupazione assoluto in Italia, spendere magari come viene fatto con l'operazione Mare Nostrum 9 milioni e mezzo al mese per garantire questa sorta di traghetto per l'Italia, credo che sia un lusso che noi possiamo anche risparmiarci. Perché vista la crisi che stiamo soffrendo tutti abbiamo tantissimi disoccupati che devono avere la precedenza, quindi noi diciamo prima i nostri, non possiamo accettare un'invasione continua come quella che sta avvenendo grazie all'operazione Mare Nostrum e quindi dal nostro punto di vista il ministro Alfano si dovrebbe dimettere.